Musica Senago ha la fama di essere un paese, non dico anonimo, ma quasi, tranquillo, quindi la gente quando vede, c'è tanta gente che usa Senago per sbarazzare, perché? Perché è sicuro di non essere riconosciuto e qui adesso mi sembra strano, solo perché ci siete voi, c'è questa gente, altrimenti la gente se ne frega. E' un posto come un altro, non è che devo controllare tutti i giorni, no, assolutamente, questo qui è il mio, questo qui è il mio, lei mi va esattamente dietro, ma io non mi sono accorto di niente, perché domenica l'ho usato l'ultima volta alle otto e mezza. La porta sotto sequestro, il numero di Carabinari avrebbe evidenziato che c'erano tantissime tracce all'interno di quell'abitazione? No, no, abbiamo saputo, Senago è piccola e preferiamo non dire niente, ci dispiace veramente per la famiglia e buon lavoro.